La tranta che si è rinforzata è noi che siamo un po' in calo, è un momento un po' particolare per noi, dobbiamo cercare di rifiatare questa sosta, secondo il mio punto di vista viene a puntino perché possiamo almeno lavorare su determinate situazioni dove abbiamo perso magari un po' di fiducia e quindi ben venga questa sosta perché c'è bisogno di rifiatare un po' soprattutto per quelle che stanno giocando da parecchio tempo, anche se io ho visto una partita, le ragazze ci sono impegnate, hanno creato, abbiamo avuto due o tre situazioni che potevamo vincerla, è vero che abbiamo subito anche due occasioni importanti dell'Atalanta però credo che sia stata una partita equilibrata, alla fine credo che forse ai punti meritavamo più noi di loro. Sì perché quando arriviamo, noi ci arriviamo bene lì purtroppo, ci siamo arrivati con Tomaselli, ci siamo arrivati con Cambiaghi, con Ferrato, con Iannella, quindi tutte situazioni che vanno ricreate, riproposte durante la settimana ma soprattutto anche durante la partita e dobbiamo essere più ciniche quando arriviamo lì. Si sa che magari nel femminile per fare un gol bisogna creare 3-4 occasioni a differenza del maschile però noi ci lavoriamo sempre, il problema è che quando arriviamo lì dobbiamo cercare di finalizzare al meglio. Prima magari ci andava tutto bene, adesso magari è un momento un po' così, deve passare ma dobbiamo essere noi a tirare la fortuna e non solo quella, la qualità dalla nostra parte con degli allenamenti che andremo sempre a fare durante la settimana con grande intensità. ha fatto il suo tranquillamente, poi l'ho tolta perché l'ho vista un po' stanca, si vede che è ancora un po' timida, non ha ancora preso confidenza col campionato italiano, adesso ci lavoreremo durante la settimana sia con lei che con Fisley ma come ho detto prima con tutte le ragazze perché poi alla fine questo è un gruppo che va portato avanti, è un gruppo che secondo il mio punto di vista può migliorare ancora, in questo momento ripeto come ho detto prima ci sono delle difficoltà però dobbiamo cercare di reagire, sicuramente la soddisfazione migliore oltre ai risultati che stiamo ottenendo noi è anche quello di portare più ragazze possibili nazionali, quello è sicuramente un piacere, un orgoglio come hai detto te da parte nostra e da parte della società perché all'inizio dell'anno c'erano solo qualche nazionale, Gaga in primis è nazionale svizzera, Dalesik polacca, piano piano lo stiamo portando e le convocazioni di Bursi ci riempie di soddisfazione come lo poteva essere, lo può essere quella di Tomaselli nell'Under 19, di imprezzabile, quindi tante giocatrici che vanno a far parte di una nazionale dove sta lavorando bene e cerca di crescere sempre di più. Ho visto una partita molto combattuta a centro campo, con poca cattiveria davanti alla porta purtroppo, sulle poche occasioni che ci siamo create e dietro abbiamo retto abbastanza bene. La forza sicuramente è il gruppo perché anche se a volte le partite si mettono contro proviamo sempre a ribaltarle insieme e questa è una cosa importante, però ultimamente mi sembra che manca un po' la fame e dobbiamo rimboccarci le maniche. Io mi sento bene, mi sono integrata bene con la squadra, ho la fortuna di lavorare bene con il preparatore dei portieri, con gli altri portieri che sicuramente mi spingono a dare quel qualcosina in più, che mi aiutano a rendere anche meglio in campo. Sì, sicuramente è un motivo di orgoglio per me ma anche per le altre perché giocare a livello internazionale ti fa crescere, confrontarsi con le migliori del tuo paese ti fa crescere, ti porta avanti e poi queste cose si portano alla squadra di casa. Quindi è tutto positivo e spero che le ragazze tornino con la voglia di fare ancora meglio quando riprenderemo il campionato. Io mi auguro di poter continuare su questa mia strada con la salute e la forma che mi hanno accompagnato quest'anno e per la squadra mi auguro di ottenere almeno il quarto posto.